Io sono emozionato perché per me tornare a Torino è tornare un po' a casa, dal teatro stabile sono cittadino di Torino. La cosa che Mario ha detto è molto molto importante perché noi credevamo è un film che ha unito il lavoro e la fede profonda nel lavoro di tante persone. Quando noi diciamo che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, noi vediamo qualcosa che per quanto possa essere stato scisso e diviso in qualche modo sia unito tramite il lavoro. Quando diciamo andiamo in giro a portare il film alle persone e le persone si emozionano come noi ci siamo emozionati, noi diciamo tuttora continuiamo a fare l'Italia, la facciamo creando un linguaggio comune, con gli stessi processi con i quali abbiamo approcciato il film, abbiamo cercato un linguaggio comune che è stata la lingua del Cilento, ti ricordi eravamo all'Aquila io e Luigi, perché Mario mi ha mandato a studiare da Luigi il Cilentano, essendo piemontese, e allora abbiamo creato un linguaggio comune, abbiamo seguito qualcuno che ci credeva così profondamente, che per noi è stato veramente quasi militare dentro una cosa, ma questo è stato un lavoro di tutti, collettivo, molto forte, vedere che c'è un disegno per impedire che le persone vadano verso questo, è una cosa per cui il pubblico risuona, è della nostra parca più grande, è una grande tristezza, mi fa piacere essere parte di questo film, dove ci sono un grandissimo regista, i grandissimi attori italiani e un grandissimo impegno per il lavoro e per qualcosa che veramente fuori dai premi, fuori dai concorsi e tutto, prima di tutto tocca al cuore delle persone, voi non avete idea, i ragazzi che incontriamo nelle scuole, come rispondono a questo film? Io non vedo l'ora che questo film va in televisione, anche perché ci sarà anche lì l'ennesima prova che forse queste iniziali poche copie, per cui sono distribuite, potevano essere un altro investimento. Mi piace, non voglio scordi più di questo, però mi sembra che sia importante dire che noi ci credevamo a tutti i livelli.